la salita, che salita è stata? come è stata la salita? la salita era dura poi ci sono pezzi impegnativi un po' spiana però è stato sempre un po' vento contro poi ero già un po' finito dico che era dura l'entusiasmo dei siciliani ti ha colpito? tutta questa gente si si poi veramente qua ultimi chilometri ha anche tanta tanta gente almeno fatta un po' meno fatica di cercare grazie